Ci troviamo a Corinaldo in via del Fosso e alle mie spalle potete vedere le condizioni della cinta muraria. Una ferita di circa 3 metri alle 15 di ieri si è aperta nella cinta muraria del Borgo Gorettiano. Si sgretolano le mura di Corinaldo nel tratto Torre della Rotonda e Torre del Calcinaro, le cui macerie sono rotolate sulla strada sottostante via del Fosso, ora transennata e messa in sicurezza. I segnali non erano mancati, tanto che già da gennaio, vista l'accelerazione dei movimenti e delle lesioni della cinta muraria, erano stati evacuati gli occupanti della casa situata a ridosso delle mura, ora sull'orlo del precipizio e che rischia di crollare da un momento all'altro. Il boato provocato dal cedimento è stato avvertito distintamente dai residenti, ora evacuati in via precauzionale. Sono circa 10 le famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie case per un totale di circa 15 persone. In una deserta via del Fosso ora regna il silenzio. Nel pomeriggio, ha spiegato il sindaco Matteo Principi, partiranno i lavori di demolizione del fabbricato, posizionato nella zona sopra il crollo. Gli accertamenti per capire le cause dell'accaduto sono in corso. Ieri, quando è successo i primi cedimenti, abbiamo evacuato altre famiglie a livello precauzionale, che sono le abitazioni a valle e a monte, sono state tutte trasferite in due strutture alberghieri nel nostro comune. Adesso vediamo l'evoluzione dei lavori per capire quanto tempo ancora non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Con una ditta specializzata in demolizione e comunque smontaggio, tentiamo di gestire il crollo del fabbricato. Quindi togliere questo peso importante dalla cinta muraria, ripristineremo le mura, diventeranno più belle di prima, perché questo è il nostro obiettivo, ma era l'obiettivo prima del crollo. Purtroppo l'evento calamitoso, comunque la nevicata, quindi questo elemento ha accentuato il movimento e non ci ha permesso di portare avanti quel progetto che avevamo pronto e abbiamo anche le risorse economiche da parte nel nostro bilancio. Presente per un sopralluogo anche l'assessore regionale alla protezione civile Stefano Aguzzi. Da ieri, assieme a Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco, ha affermato l'assessore, c'è la nostra protezione civile, sempre presente, che ha monitorato la zona interessata dal crollo tutta la notte. Al di là del crollo il problema è le case che sono al di sopra delle mura, che se dovessero collassare insieme, sono anche visibili delle crepe molto evidenti, riescono di avere un effetto trascinamento anche magari in altre abitazioni e quant'altro. Ho voluto rassicurare anche il sindaco che saremo attenti anche a come coprire, se mi permettete, al di là della logistica, anche in parte finanziariamente questa parte di emergenza. La protezione civile regionale intende comunque in qualche modo farsi carico di questa problematica in aiuto al Comune di Corinaldo, in aiuto ai cittadini di Corinaldo, innanzitutto per la messa in sicurezza e la sistemazione di questa situazione e poi magari anche per venire incontro sotto il punto di vista emergenziale, anche magari a sostegno ulteriore dell'amministrazione comunale in seguito.